Ciao a tutti, oggi vediamo un esempio pratico di applicazione del comando della funzione se di Excel applicata nel mio caso al programma Calc di LibreOffice. Questo è un esempio di una gestione giornaliera di magazzino. La gestione giornaliera di magazzino ha delle voci ben precise che sarà bene prima guardare e poi analizzare nel dettaglio prima di andare a vedere quali formule e quali funzioni ci viene chiesto di inserire. Allora innanzitutto che cos'è una gestione giornaliera di magazzino? Beh, è un calcolo di quantità che ci troviamo in magazzino all'inizio giornata e a fine giornata e un calcolo possibilmente di quello che deve essere il riordino da fare o un eventuale reso se ci avanza troppa roba. Come potete vedere in questa tabella abbiamo come riferimento i codici dei prodotti che teniamo in magazzino che qua ovviamente da esempio sono inventati, le unità di misura che anche questi sono dati da inserire banalmente a mano, una giacenza iniziale che anche questi sono numeri, sono quantità riferite all'unità di misura precedente di quello che abbiamo a inizio giornata nel magazzino, cioè quello che ci ha avanzato dalla gestione del giorno precedente. Il carico invece come voce non è altro che quanto nell'arco della giornata riceviamo, quindi se per esempio nell'articolo 01 riceviamo 8 litri si andranno a sommare e ad aggiungere alla qualificazione iniziale. Nell'arco della giornata poi avremo un utilizzo dei materiali e dei prodotti che abbiamo in magazzino e questo va sotto la voce utilizzo e alla fine della giornata questo invece è un campo che dovremo calcolare noi e sarà la giacenza finale, cioè quanto rimane dopo che calcolato quanto avevamo dal giorno prima, calcolato quanto è arrivato durante la giornata e quanto è stato consumato ci rimane. Quindi questa come potrete immaginare è una formula, non una funzione ma una semplice formula che dovrà sommare la quantità della giacenza iniziale e del carico e sottrarre la quantità utilizzata, poi lo vedremo. La scorta minima è una quantità minima da tenere in magazzino per il singolo prodotto, viene stabilita nella politica di gestione del magazzino che per il prodotto per l'articolo 01 per esempio non dobbiamo mai scendere sotto 5 unità da tenere in magazzino e lo stesso la scorta massima è una quantità massima per motivi di gestione che non vogliamo superare, quindi praticamente ci troviamo nella situazione per cui se a fine giornata utilizziamo meno di quello che ci siamo aspettati e abbiamo avuto un carico magari può succedere che il totale della giacenza finale superi questa scorta massima. Queste come vedete sia la scorta massima che la scorta minima sono anche queste delle quantità che stabiliamo noi, così come le quantità che sono già elencate da unità di misura, giacenza, iniziale, carico, utilizzo e anche negli articoli. L'eventuale reso che cosa sarà mai? Sarà anche questo un campo calcolato, una funzione che noi dovremmo calcolare che praticamente contiene il valore della quantità che dobbiamo restituire, cioè se a fine giornata quello che rimane nella giacenza finale è troppo alto dovremo andare a restituire la differenza in modo da rimanere al di sotto della scorta massima consentita. Adesso noi vedremo come esempio come si calcola la giacenza finale e come si calcola il riordino. Vi lascerò come esercizio perché è molto simile al calcolo del riordino, il calcolo dell'eventuale reso. Abbiamo detto che la giacenza finale è la quantità che abbiamo in magazzino dal giorno precedente più quella che arriva durante la giornata meno quella che utilizziamo. Quindi in questo caso la formula è abbastanza semplice. È sufficiente inserire l'uguale per indicare che stiamo inserendo una formula o una funzione, selezionare il campo della giacenza iniziale, sommare il campo del carico perché queste due sono quantità di ciò che potremmo trovarci dal giorno prima più quello che arriva durante la giornata e sottrare a tutto questo quanto viene utilizzato. Quindi questa semplice formula mi dà la quantità di materiale di prodotti che io mi ritrovo all'interno del magazzino a fine giornata. Ovviamente è una formula molto semplice, non ci sono riferimenti assoluti o problemi di caselle che devono rimanere inalterate durante la coppia di questa funzione e quindi nel modo più semplice possibile, tenendo premuto il tasto sinistro sul bordo in basso a destra della cella, trascino in giù la mia formula e la replico nelle altre righe e questo mi dà il calcolo corretto per ogni tipo, per ogni singolo prodotto. Ora, il calcolo del riordino utilizza la formula SE, quella che abbiamo visto già in lezioni precedenti. La formula SE praticamente è una formula logica, mi permette di porre una condizione e sulla base della condizione decidere cosa scrivere. A cosa mi serve? Beh, io il riordino lo faccio soltanto se la giacenza finale scende sotto la scorta minima, come per esempio in questo caso dell'articolo 02 in cui alla fine della giornata mi ritrovo con un litro di questo prodotto e ne vorrei avere come minimo 7. Cosa vuol dire questo? Che nel caso in cui invece la giacenza finale stia sopra la scorta minima, sarebbe cosa gradita non vedere scritto niente all'interno della casella. Siccome io a priori questi numeri cambiano, la gestione del magazzino è fatta apposta perché ogni giorno io aggiorno queste varie informazioni e non so a priori dove possa apparirmi una necessità di riordino, devo fare in modo che la formula abbia appunto una duplice condizione. Nel caso in cui questo valore è più piccolo della scorta minima devo riordinare e che cosa devo riordinare? Beh, la differenza che c'è tra la scorta minima e quello che mi è rimasto in magazzino. Se ho 1 in magazzino e ne voglio come minimo 7, è ovvio che devo ordinare 7 meno 1, cioè 6, per poter riportare la scorta al valore minimo. Quindi la formula avrà, sarà una condizione logica che ha come confronto la scorta minima con la giacenza finale e nel caso in cui la scorta minima sia superiore la differenza tra la stessa scorta e la giacenza sarà la quantità che io riordino. Nell'altro caso invece metterò tra apici uno spazio bianco in modo che venga scritto uno spazio bianco e cioè che non si veda nulla all'interno della cella. Faccio così perché in alternativa se io non scrivo nulla il software diciamo Excel o Calc vanno inserire la scritta falso, cioè vuol dire che io non ho nella condizione falsa se la condizione è falsa, cioè se la scorta non è superiore alla giacenza, lui mette in automatico questa frase io non voglio che sia che si veda una scritta del genere. Andiamo a vedere nel dettaglio come si scrive la formula uguale se, aperta tonda, vuole il test. Il test è appunto la condizione. La condizione è io voglio che la scorta minima sia superiore alla quantità. In questo caso vuol dire che sono sotto scorta. Se sono sotto scorta devo andare a inserire come quantitativo da ordinare la scorta minima meno la giacenza finale. Nell'altra condizione, nell'altro caso, cioè se invece non sono sotto scorta, apice, spazio, apice e chiusa tonda. In questo modo vado ad inserire uno spazietto bianco quello di cui avevamo detto prima. Se io batto invio, in questo caso non vedo nulla perché in questa cella effettivamente ho come giacenza finale 25 e come scorta minima 5 quindi sono tranquillamente al di sopra della quantità minima. Se io faccio come ho fatto con la giacenza finale trascino la funzione e la coppio nelle altre celle, vedrete che ci sono alcune celle in cui invece l'ordine va fatto. In questo caso il famoso 6 di prima, in questo caso sono sotto di 0,5 litri e così via. Lascio a voi come esercizio fare il calcolo dell'eventuale reso. L'eventuale reso, come suggerimento, vi posso dire che l'aggiornamento è analogo, semplicemente dovrò confrontare la giacenza finale e la scorta massima. Nel caso in cui la giacenza finale sia più grande di quello che mi è consentito tenere, la differenza tra la giacenza finale e la scorta massima verrà calcolata come valore da mettere all'interno della cella. Nel caso in cui invece la giacenza finale stia sotto, come può succedere in questo caso, alla scorta massima, eccolo qua, un esempio che calza è questo di questa riga dell'articolo 0,6, a questo punto non dovrò far apparire altro che un piccolo spazio, cosa che avete già visto in questa formula. Spero che questo video tutorial vi sia utile e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie a tutti.